La assunzione o comunque la sospensione, diciamo così, dell'assunzione di alcuni agenti vi ha già illustrato quali sono stati il filone, le linee di pensiero che hanno consigliato Prudenza in quanto il palesarsi delle dichiarazioni della nuova amministrazione di Vignola, per quanto sicuramente legittime, hanno dovuto indurre gli altri comuni a una seria riflessione su quali sarebbero potuti essere gli scenari e le prospettive per gli altri comuni che avrebbero comunque continuato a condividere il progetto di corpo unico. Ovviamente tutte le valutazioni sono passate per una precisa progettazione da parte del comandante Fabio Venturelli che ci ha prospettato alcune ipotesi con uno scenario, ma che comportavano molto spesso un'ipotesi di esubero, di esubero del personale. Dal momento che voi sapete la procedura di esubero passa per due anni di sospensione, dopodiché scappa il licenziamento, a meno che non si prospetti un ricollocamento, comprenderete che l'ipotesi di, da seguito alla prospettata, anzi alla ipotizzata dal punto di vista del bilancio, assunzione di agenti, ha dovuto essere congelata fino a quando non si è avuto un chiarimento che, devo dire, in via definitiva non lo abbiamo ancora. e da qui certamente la diminuzione del capitolo di spesa è di circa 100.000 euro. Questo è innegabile, ma in relazione a questo. Mancata copertura sui sistemi informativi, devo dire che è circa due anni che siamo orfani, diciamo così, di un responsabile di settore, responsabile di settore che si dovrebbe occupare di quello che è lo sviluppo del CED, figura che è venuta a meno con il pensionamento di Romana Dalle Olle, che a tuttora non è stata sostituita. Il risparmio che voi vedete è perché la Giunta dell'Unione ha ipotizzato, invece di sostituire la figura apicale, ma bensì di implementare la dotazione organica con un tecnico, che molto probabilmente darebbe più linfa e più respiro rispetto alle tematiche, alle problematiche che hanno comunque i comuni o i servizi unionali che accedono primariamente ai servizi del CED. Assunzione che però non si è portata a termine per il motivo che andrò ad illustrare alla fine di tutta questa descrizione. Il punto 3, il servizio welfare sono andato in pensione un paio di persone e sono state sostituite con una riduzione del capitolo di 66 mila euro. Certamente, però io penso che tutti noi siamo consci che il sistema del welfare dell'Unione è fonte primaria delle voci di capitolo di spesa del nostro bilancio. Io credo che siano anni, io sicuramente molto meno, ma chi frequenta il Consiglio dell'Unione o la Giunta dell'Unione da molto più tempo di me, mi narra che spesso e volentieri siano auspicate, siano state auspicate o siano state ipotizzate o sperate razionalizzazioni in un organico, in una struttura che eroga servizi così complessi che dessero finalmente adito a risparmi. Di conseguenza le soluzioni non è che siano tante. Dal momento che non si vuole mai fare male da nessuno e di conseguenza non si fanno licenziamenti, cosa succede? Si coglie l'occasione per i pensionamenti per cercare di razionalizzare e redistribuire il personale all'interno di quei servizi che vengono erogati e cercare di concretizzare quelle fonti di risparmio che spesso in una società, che spesso di questi tempi conosciamo tutti le tematiche quali sono, età media che si innalza, di conseguenza la popolazione anziana che aumenta, di conseguenza accesso a queste tipologie di servizi che vengono erogati dalla nostra Unione. Possiamo dire che all'interno della la nostra Unione all'interno della Regione molto probabilmente è spesso indicata come una delle Regioni da prendere ad esempio per il livello dei servizi che vengono erogati a livello dei servizi di welfare e di assistenza sociale, non si può fare a meno che notare che le uniche possibilità che vengono da una gestione oculata del personale è nel cercare di ridistribuire i compiti quando qualcuno va in pensione. 33 mila euro di tagli sui nidi, certamente, visto così potrebbe essere una penalizzazione per coloro che hanno bambini piccoli, facciamogli del male, se non che le gestioni del personale non possono esimersi dalle valutazioni che saranno meramente biche, forse opportunistiche, viste dagli occhi di qualcuno, ma se il dato di fatto ci porta a valutare che ci sono meno iscrizioni ai nidi e di conseguenza meno bambini accedenti al servizio, a un determinato momento purtroppo bisognerà rendersi conto che ci sono troppi addetti a svolgere quella mansione che saranno reindirizzate verso altre mansioni oppure in caso di contratti a tempo determinato, purtroppo per loro, con grande dispiacere, non verranno rinnovati, ma soltanto perché si cerca di gestire oculatamente il denaro pubblico. Quinto e ultimo punto, sono state effettuate economie, politiche giovanili, immigrazioni, il tema è legato al discorso che la nostra Unione ha avuto accesso a contributi regionali in maniera minore. Lo ha già anticipato il Presidente, non vorrei ripetermi sullo stesso tema, ovviamente quando la macchina non funziona perfettamente purtroppo si perdono occasioni, occasioni legate a progetti che si sarebbero potuti portare avanti ma che non si sono completati. Altre unioni magari hanno lavorato meglio e hanno portato a casa progetti che presentati ovviamente nelle opportune sedi hanno dato concretizzazione, hanno fatto concretizzare finanziamenti più alti dei nostri. Questo deve essere uno sporone sicuramente a incentivarci a lavorare meglio. Chiudo con un'ultima precisazione. Quest'anno, a dire la verità forse da un po' più di un anno, la struttura dell'ufficio personale che in qualche modo cerco di seguire per quanto mi è possibile, è stata chiamata a un'iperattività, una mole di procedimenti e di mobilità piuttosto che non concorsi, piuttosto che non reperimenti di personale, molto probabilmente superiore alla norma. Da un lato, legata al fatto che, come tutti ben voi saprete, stanno venendo meno, si stanno esaurendo agli effetti della riforma Farnero. Abbiamo appena parlato infatti di due quiescenze avvenute nell'ambito, in uno degli ambiti unionali del welfare. Di conseguenza si pone la problematica di sostituire figure che stanno andando in pensione, per fortuna loro. Al tempo stesso abbiamo avuto una tornata elettorale con una serie di individuazioni di figure che sono a pannaggio delle nuove amministrazioni entranti. Se a questo sommiamo le procedure di reperimento del Corpo Unico di Polizia Municipale, una serie di problematiche legate alla gestione degli asili e delle materne, per il quale il personale non può venire meno. Di conseguenza le varie assenze, che siano per malattia, per maternità o comunque per tutti gli altri istituti che sono riconosciuti legittimi come assenza, per poter accedere alle sostituzioni implicano una mole di lavoro che vi garantisco non è indifferente. Molto probabilmente l'organico dell'ufficio personale, ora come ora, come è strutturato, non era preparato ad affrontare una mole di procedimenti tale. Si è riusciti ad arrivare alla fine su ogni procedimento, in alcuni casi con alcuni ritardi, sicuramente non voluti, ma che però purtroppo hanno dato luogo anche a qualche disagio. Sicuramente i ritardi si sono cercati di limitare in settori che non fossero di vitale importanza, l'esempio qui è il CED, ecco, l'esempio più calzante. Si è dovuto, nell'ambito di una valutazione che è stata effettuata inizio anno da parte della responsabile del servizio, congiuntamente con me e di concerto con tutti i sindaci, si è dovuto eseguire una lista dei fabbisogni nel quale ogni ente ha portato le proprie necessità, le si sono confrontate con i fabbisogni dell'Unione, dopo di che si è stabilita una lista di priorità. È chiaro, tutto non lo si può fare nel medesimo momento. Se ci sono stati dei disagi, io me ne scuso per quanto mi è possibile, cercheremo di lavorare meglio in futuro. Grazie. Altri interventi? Fiorini e Puenderlini. Cerco di essere abbastanza veloce, sono stati toccati due argomenti che mi hanno un attimino stuzzicato. No, per quanto riguarda, guardate che non intendo mica fare della polemica, per quanto riguarda i vigili, si è parlato di mancate assunzioni per colpa di Vignola, davvero senza fare polemiche, però mi sembra un pochino una scusa dell'ultimo momento. Mettiamo un attimo in rega le cose. Adesso state lavorando lacrimente fra voi sindaci insieme con il nostro sindaco di Vignola e io davvero spero che si possa trovare una soluzione che possa essere utile per tutti. Nel 2007, quando fu creato il Corpo Unico, io c'ero già, ero consigliere comunale Vignola, forse qualcuno di voi non c'era, ma da allora a venire oggi la carenza di organico c'è sempre stata. Poi vogliamo dire che i parametri regionali, forse, visto la contrazione dei bilanci che viviamo oggi, sono cifre troppo alte come numero dei parametri regionali, va bene, però nel Corpo Unico, diciamoci la verità, c'è sempre stata una carenza di organico. Io l'ho vissuta anno per anno dal 2007 a venire ad oggi. Quindi davvero, senza fare polemiche, però mi sembra un pochino dare delle responsabilità a Vignola per delle mancate assunzioni, mi sembra un pochino una scusa dell'ultimo minuto. Ecco, e ripeto, spero che le trattative che ci sono in corso fra i sindaci trovino degli sbocchi positivi per tutti. Poi volevo anche un po' ragionare a voce alta su un'altra cosa. Le mancate premialità alla nostra unione. Cioè, io credo, adesso, io non so, nella nostra regione, se ci sono state delle nuove unioni che si sono formate, magari, al di là dei singoli progetti, magari ci sono unioni che hanno messo insieme delle nuove convenzioni, eccetera. Cioè, non è che possiamo pensare di essere sempre i primi della classe. Tra l'altro, la nostra unione è anche abbastanza grande. Sono assolutamente convinto che è difficile gestirla. Ci sono delle difficoltà, immagino. Ci sono state in passato, ce ne sono magari alcune anche oggi, ce ne saranno anche in futuro. Quindi non è che possiamo pensare di essere sempre i primi della classe. Alla fine ci sono anche altre unioni che magari si stanno sviluppando, stanno mettendo insieme nuove convenzioni. Forse siamo stati penalizzati per quelli, non tanto perché siamo meno bravi, ma perché altri magari stanno venendo avanti oggi. Noi, in passato, come Unione, abbiamo preso tanti, tanti soldi. E questo bisogna anche riconoscerlo. Quindi non è che possiamo pensare di essere sempre finanziati, magari. Ecco, volevo solo precisare queste due cose. Grazie. Anderlini Sì, mi riegancio a questo tema perché il fatto che ci sia già stato un accordo nel 2012, se non sbaglio, un accordo di programma con la Regione, che prevedeva comunque un aumento entro il 2014 di agenti, in base agli standard previsti dalla legge regionale, cioè la dice lunga, sulla carenza di organico, quindi non è una cosa, come stava dicendo il Consigliere, che secondo me è legata appunto all'eventuale decisione di uscita di Vignola. È una cosa volontariamente decisa in questo senso. Non ci sono agenti, continuiamo così nonostante gli accordi e nonostante la legge regionale. Un'altra cosa che mi interessa sottolineare è il fatto della scuola e del fatto che molte famiglie ritirino, come abbiamo scritto nel documento, i bambini nel momento della mensa. Se voi venite anche solo a Spilamberto, cioè a mezzogiorno, anzi all'undici e mezza, la scuola dell'infanzia, si vede proprio il corteo di mamme e di bambini che escono, soprattutto stranieri. E io sono convinta che l'integrazione passi dalla scuola, tant'è che il percorso scolastico è fondamentale per acquisire poi la cittadinanza. Quindi, oltre al discorso delle famiglie italiane, e non solo, che vengono aiutate grazie ai sostegni e alla riduzione della mensa, c'è proprio anche tutto un altro discorso da valutare. L'altra cosa sui rifiuti. Conosco abbastanza bene i controlli che non vengono fatti a Spilamberto. Le dico così perché di fronte a una richiesta, perché le segnalazioni sono continuamente, sono quotidiane, insomma, sulla mancata pulizia, comunque sui sacchi che restano, sugli ingombranti che sono nelle piazzole, non dovrebbero esserci, eccetera. Ha espressa domanda, l'era risponde, perché poi io ricevo...